Sono scaduti oggi a mezzogiorno i termini per la presentazione delle liste in vista delle amministrative del 20 e del 21 settembre. 11 le amministrazioni della provincia di Campobasso in cui si voterà per il rinnovo dei consigli comunali e l'elezione del sindaco. Si tratta di Boiano, Bonefro, Casal Ciprano, Cerce Piccola, Lupara, Montenero di Bisaccia, Pietracatella, Pietracupa, Provvidenti, Rocca Vivara e San Giuliano del Sannio. Le sfide più interessanti sono quelle di Boiano, amministrazione commissariata in seguito alle dimissioni del sindaco Marco Di Biase, due i candidati, Maria Cristina Spina, moglie dell'attuale consigliere regionale Gianluca Cefaratti e Carmine Ruscetta. La lista che sostiene la spina si chiama Boiano Civica, tra i candidati c'è l'attuale presidente del consiglio regionale Salvatore Micone e Gaetano Policella, vice sindaco dell'amministrazione Silvestri. Carmine Ruscetta invece è sostenuto dalla lista Benvenuta a Boiano, tra i candidati l'avvocato Carmen Romano, il presidente dell'associazione Falco Gianni Marro e quello dell'associazione Gruppo Popolare Carmine Prioriello. Altro comune su cui è puntata l'attenzione è quello di Montenero di Bisaccia, dove sfida tra Simona Contucci con la lista Montenero Coraggiosa e Fabio Derisio sostenuto dalla lista Montenero che rinasce. A Bonefro sfida tra l'uscente Nicola Giovanni Montagano con la lista Uniti per Bonefro e Rosetta Rea appoggiato dalla lista Cives. A Providenti Robert Caporicci con Uniti per Providenti sfiderà l'uscente Salvatore Fucito sostenuto dalla lista Lavoriamo per Providenti. A San Giuliano del Stagno sfida tra l'ex assessore regionale Rosario De Matteis con la lista Impegno Comune e Adamo Cappiello appoggiato dalla lista Progredire con Impegno. A Casal Ciprano sette candidati sindaco, l'uscente Elisio Castelli, Monia Rossi, Eleonora Garrapa, Francesco Pio di Flumeri, Roberto Esposito, Nicola Barbiero e Michele Palange. Si vota anche a Cerce Piccola, sindaco uscente Michele Nardacchione, a Lupara, sindaco uscente Pasqualino Morinelli, Pietra Catella, sindaco uscente Luciano Pasquale e Pietra Cupa, sindaco uscente Camillo Santilli. Le liste presentate saranno sottoposte al vaglio della Commissione elettorale competente prima di essere ammessa la competizione elettorale.